Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi è una giornata di campionato molto importante perché c'è il derby di Milano e perché ci sono già stati degli scontri importanti che hanno visto dei risultati abbastanza inattesi rispetto a quello che si pensava. Questo video ovviamente è dedicato alla sconfitta della Roma ieri sul campo della SPAL. Una sconfitta che nessuno si aspettava e faccio subito un cenno a Pinguim che sono mesi che dice che la Roma non ha nessun problema, che si sarebbe sicuramente qualificata in Champions, al momento tutto da vedere. Altro cenno che farò più tardi, vabbè, a Peppe. Allora, la Roma ieri ha giocato contro una squadra che era un punto dalla zona retrocessione. Partiamo con i dati. Era un punto dalla zona retrocessione. Adesso è a 4 punti dalla zona retrocessione avendo conquistato i 3 punti della vittoria. La Roma ieri ha fatto il primo tiro al 34esimo del primo tempo. La SPAL quest'anno ha battuto in entrambe le occasioni la Roma, prendendole 6 punti. All'andata ha segnato Bonifazi. Ieri ha segnato Fares. Voi avete mai sentito Fares, Bonifazi? Fares di certo non è un giocatore così famoso in Italia, no? E invece ieri ha segnato. Ha segnato Fares e addirittura la Roma ha fatto riprendere Petagnone nazionale. Immagino che mio amico Aldri ne sia super soddisfatto. Che succede alla Roma? La Roma questa giornata doveva approfittare del derby di Milano per recuperare dei punti. Così non sarà perché in qualunque modo vada il derby la Roma perderà dei punti. Però per sua fortuna rimane comunque attaccata, rimarrebbe comunque attaccata alla zona Champions visto che sarebbe sempre a 4-5 punti in media dalla zona Champions, quindi una zona raggiungibile. Volevo dire che alla Roma c'è stato questo avvicendamento non presso Ranieri, no? Di solito una squadra normale fa un avvicendamento per migliorare, no? Altrimenti non ha senso fare un avvicendamento per la prossima stagione. Lo fai a giugno. Non c'è bisogno che tu lo faccia a metà stagione. Voglio ricordare che importanti giocatori della Roma si auguravano dopo la disfatta Champions che Francesco fosse rimasto. De Rossi per esempio ha fatto delle dichiarazioni ufficiali. Quindi cambiando allenatore, cambiando elettore sportivo dai anche una stangata ai giocatori che già sono depressi, quindi li butti ancora di più giù perché la loro volontà non è fatta. Che significa? Che Ranieri è arrivato, tutto il popolo romanista con tutti i contenti. Ranieri ha fatto la prima partita e ha detto che è andata bene perché il Varo l'ha aiutato dopo aver subito per 45 minuti l'iniziativa della squadra avversaria del Bologna. Dopodiché ieri ha perso, quindi non potete ancora prendervela con Monchi o con Di Francesco. Vi tenevate Monchi e Di Francesco? Provavate almeno a finire la stagione. Ranieri perché l'avete preso? Per fare meglio? Se fa peggio non è colpa di Monchi o di Francesco. Sarà anche qualche responsabilità di Ranieri, no? E quindi prendetevi le vostre responsabilità. Ranieri ha detto che Schick e Zeko possono giocare insieme. Quindi è arrivato il rivoluzionario. Si è visto come Schick e Zeko possono giocare insieme, eh? Che Schick non ha toccato un pallone. Si è visto come dialogano i due, eh? Veramente ci voleva Ranieri per dire una cosa del genere. Poi ha detto che Fazio è un big, è un top player Fazio. Per me Fazio è bravo, eh? Mi piace. Però ultimamente sta giocando male. ha fatto solo 6-7 mesi bene, credo, la stagione. Non mi sembra tutto questo big. Ieri ha giocato tipo da 4 e mezzo 5. Quindi questo Fazio big. Quindi ogni cosa che dice Ranieri si rivela una stronzata, diciamo così. Quindi niente ragazzi. Ultimo cenno a Pepe. Pepe, purtroppo spesso non abbiamo visioni differenti. Io qui non sono a fare il professore. Io qui sono a dire la mia opinione perché mi stanco a passare la mia vita sulle chat, Whatsapp, ok? Poi se non ti stanno bene le cose che dico puoi replicare dove ti pare. Però non passiamo alle offese personali, eh? Perché ovviamente si dice che quando una persona non ha più motivazioni, non ha più argomentazioni, tira fuori le offese personali. Non va bene così. Quindi offese personali no. L'importante è dire la propria opinione. Se l'altro non è d'accordo, ognuno si tene la sua. Per me l'avvicendamento di Ranieri a questo punto della stagione della Roma è quanto di più sbagliato potesse fare pallotta. Si finiva la stagione con di Francesco, si tiravano le somme e in caso negativo si procedeva ad un avvicendamento completo dello staff, del management, di alcuni giocatori, eccetera. Ma non ho a metà stagione perché a metà stagione rischi di buttare già quel poco che puoi conquistare. Questa è la mia opinione. Poi magari tu sei... Allora che fai? Te la prenderai sempre con Monchi fino a giugno. A me lo te lo tenevi, te la prendevi con lui e poi a giugno lo mandavi via. Non che prendi Ranieri e continui a prendertela con Monchi. Proprio è una roba... è tautologico che sia così. Cioè puoi prendere Ranieri per fare meglio. Se Ranieri fa male te la prendi con Ranieri. Non è che continua. Come fai in 5 stelle in politica, dicendo è colpa di quelle di prima, è colpa di quelle di prima. No, adesso sei tu. Quindi niente, belle notizie per i tifosi del Milano e dell'Inter. Il derby diventa ancora più bello e più interessante. Anche nel caso l'esito sia il pari, comunque andrebbe bene per Milano e l'Inter e andrebbe male per la Roma. Quindi non è il romanista che dice esce il pari buono. No. Perché se perdete alla spalla, se vincete a fatica in casa col Bologna, fatevi due domande. Ranieri sta peggiorando una situazione che era già difficile. Quindi mi dispiace Pinguim che le tue previsioni fino a questo momento si stanno avverando al contrario di quello che pensavi. Buona domenica, buon derby e tanti saluti a tutti. Commentate e iscrivetevi al canale e sempre Forza Milan. Ciao.